e abbiamo appena deliberato lo stanziamento di una somma straordinaria, 25 miliardi consapevoli delle difficoltà che il Paese sta affrontando per questa emergenza. 25 miliardi significa quindi 25 miliardi di disponibilità finanziarie da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà che stiamo affrontando per questa emergenza che come ho sempre dichiarato è sia sanitaria sia economica e ha chiaramente un importante impatto sociale. Sono peraltro lieto del clima che si sta definendo a livello europeo. Ieri c'è stata una videoconferenza, eravamo in collegamento con il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, in videocollegamento con tutti gli altri omologhi, leader dei vari Paesi europei e degli Stati membri. Il clima è stato molto positivo, c'è stata molta attenzione nei confronti della situazione che stiamo vivendo, nella consapevolezza che è un'emergenza che coinvolgerà ragionevolmente e prevedibilmente tutto il continente europeo e ci sono state grandi aperture sulle nostre richieste. In particolare c'è la consapevolezza, abbiamo deliberato di dover condividere informazioni per essere ancora più efficaci nel contrasto al contagio e alla diffusione del virus. Abbiamo anche concordato sulla necessità di lavorare per creare un coordinamento per fornire e rendere i nostri rispettivi sistemi nazionali sanitari ancora più efficienti nelle risposte. Lavoreremo anche in coordinamento, manderemo quindi dei nostri scienziati e esperti per creare una task force europea per poter anche promuovere la ricerca per combattere più efficacemente questo virus ancora ignoto. E inoltre grande apertura per quanto riguarda le conseguenze per far fronte alle conseguenze sociali ed economiche c'era anche in collegamento la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, era anche in collegamento la Presidente della BCE Christine Lagarde. Abbiamo avuto grandi riconoscimenti e apertura sul fatto che è necessario una maggiore liquidità, è necessario adottare misure e ricorrere a tutti gli strumenti che l'ordiamento europeo ha a disposizione per far fronte, finanziari, economici, sociali, per far fronte a questa emergenza. Oggi pomeriggio a completamento dei vari passaggi che stiamo costruendo a livello europeo avrò una videoconferenza con la Presidente Ursula von der Leyen, la quale la voglio ringraziare pubblicamente. Voleva, si era dichiarata disponibile a venire in Italia, ma io stesso ho detto che in questo momento dobbiamo lavorare nel modo più rapido possibile e quindi possiamo benissimo lavorare anche con una videoconferenza. I nostri staff stanno lavorando già da qualche giorno. Ringrazio ovviamente tutti i Ministri per il grande lavoro che stanno facendo a supporto anche di queste iniziative europee. Lascio la parola al Ministro Gualtieri e poi alla Ministra Catalfo. Grazie. Come ha appena detto il Presidente Conte, oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato un'integrazione alla relazione al Parlamento che avevamo già inviato portando la richiesta di scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica a 20 miliardi in termini di indebitamento netto che corrispondono a 25 miliardi in termini di maggiori stanziamenti di bilancio per competenza e cassa. Queste risorse verranno utilizzate in parte nel primo decreto che stiamo preparando, che contiamo di approvare in settimana, probabilmente venerdì e che dovrebbe grosso modo avere a disposizione risorse per circa 12 miliardi e le altre costituiscono diciamo così un stanziamento, una riserva per possibili futuri interventi da realizzare anche in un quadro europeo, visto che come ha detto, come ha ricordato il Presidente, ieri il Consiglio europeo, la videoconferenza è stato molto positivo, ha espresso la determinazione, l'unità dell'Europa a fare tutto quello che è necessario per contrastare il virus e per sostenere l'economia. Io mi recherò tra poco, sarò tra poco in audizione alle commissioni riunite bilancio di Camera e Senato e illustrerò più nel dettaglio l'integrazione della relazione e le linee portanti del provvedimento che stiamo preparando. I principi sono quelli che abbiamo già indicato e ciò è naturalmente innanzitutto pieno sostegno di risorse al sistema sanitario nazionale, alla protezione civile, a tutti i meccanismi di contenimento, prevenzione, mitigazione del virus e naturalmente occorre ringraziare innanzitutto lo straordinario lavoro che stanno facendo i medici, gli infermieri e tutti quanti si stanno adoperando in questo momento così difficile. Secondo sostegno al lavoro, dirà adesso il ministro Catalfo, come abbiamo già anticipato, nessuno perderà il lavoro per il coronavirus. Terzo sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese. Quarto interventi sulle scadenze fiscali anche in preparazione di meccanismi di parziale ristoro per territori e imprese più colpiti dal virus. Queste saranno le linee di fondo del provvedimento che costituisce quindi la prima tappa, come abbiamo sempre detto, più significativa anche alla luce naturalmente delle misure restrittive più significative adottate dal governo, quindi all'esigenza di adattare le risorse a questo nuovo quadro, al tempo stesso appunto ci predisponiamo delle risorse per possibili eventuali ulteriori interventi. Per concludere va sottolineato che anche alla luce dell'impegno positivo dell'Unione Europea è possibile poi che alcune di questi interventi potranno in qualche modo usufruire di risorse comuni europee e quindi alleggerire ulteriormente l'impatto sul bilancio dello Stato, che comunque è pienamente in grado di sostenere questo sforzo perché ci muoviamo in un quadro di solidità della finanza pubblica, di fiducia e di forte coesione e unità a livello europeo. Grazie. Grazie. Come Ministero del Lavoro stiamo preparando ed elaborando delle norme che vadano a tutela di tutte le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane, dalla previsione dell'allargamento degli ammortizzatori sociali già esistenti alla possibilità di utilizzo del fondo di integrazione salariale per le aziende che vanno anche dai 5 ai 15 dipendenti e a una cassa in deroga speciale che vada a tutelare, con uno stanziamento importante di risorse, che vada a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal settore a cui appartengono su tutto il territorio nazionale. Le norme verranno correlate anche da norme per la famiglia con previsioni di congedo parentale speciale per tutte le famiglie italiane e in alternativa la possibilità di utilizzare un voucher babysitter. Si prevederanno delle norme speciali per stagionali, autonomi, anche con previsione di sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in modo da tutelare tutti i settori che sono stati colpiti e che vengono colpiti dall'emergenza. Grazie. Patrizia Fontana, News Mediaset, una domanda per il Ministro Gualtieri. Con la cifra stanziata 25 miliardi si sforerà il 3% vincolo di bilancio e poi al Presidente Conte si prevede oggi di mettere mano anche a misure restrittive come quelle chieste dalle regioni del nord tipo il blocco totale? Sì, allora, questa è una, sì, tecnicamente si dice up to, quindi è una autorizzazione del Parlamento a stanziare fino a 20 miliardi in termini di debitamento, 25 miliardi in termini di stanziamento. Quindi il livello di deficit dipenderà da quanto poi effettivamente sarà impiegato. Come ho detto, pensiamo che il primo decreto, la prima misura immediata, grossomodo utilizzerà circa la metà di queste risorse e l'altra metà sarà a disposizione di eventuali interventi aggiuntivi anche nel quadro di una risposta europea. Come ho già detto è possibile anche che le risorse europee che verranno utilizzate potranno sostenere parte di questo sforzo. Quindi è ancora prematuro indicare quale sarà poi effettivamente il livello di deficit che verrà raggiunto perché un conto è un'autorizzazione che il Parlamento dà a poter utilizzare fino a una certa cifra, un conto è poi lo concreto stanziamento di queste risorse che verrà come sempre modulato sulla base delle esigenze e anche dei principi che abbiamo appena indicato. Lavoro, liquidità, sostegno alle famiglie, alle imprese e naturalmente sostegno e dotazione di tutte le risorse necessarie al sistema sanitario. Riguardo all'altra domanda che mi è stata rivolta su se siamo disponibili a introdurre misure più restrittive per la Lombardia e le regioni che lo dovessero chiedere, la informo concretamente che ieri c'è stata una videoconferenza che c'è ogni pomeriggio con i governatori in protezione civile, con i governatori del territorio. È stata un po' anticipata questa richiesta. Io ho dato mandato al ministro Speranza che ha sentito il governatore Fontana, ho dato mandato al ministro Speranza di sollecitare il governatore Fontana a formalizzare le richieste, ovviamente le indicazioni, ovviamente motivandole. Quindi siamo in attesa in questo momento di ricevere le richieste della Lombardia, della regione Lombardia e chi meglio del governatore che conosce in dettaglio il territorio e che può, come dire, farci pervenire formali richieste. Ho già dichiarato per quanto riguarda l'atteggiamento del governo che non c'è nessuna chiusura verso eventuali misure più restrittive. Quindi fermo restando che noi abbiamo già adottato proprio ieri l'altro un DPCM che ha introdotto un regime esteso a tutta la penisola, ma siamo disponibili assolutamente a seguire le richieste, dell'evolversi del contagio e quindi della curva epidemiologica, le richieste che ci dovessero pervenire dalla Lombardia e dalle altre regioni. Io l'unica cosa, ma mi permetto diciamo di formulare non tanto, non è tanto rivolto ai governatori, perché i governatori hanno presa sul territorio e quindi hanno, come dire, per definizione, sono motivate le loro richieste, sono giustamente nascono da istanze concrete e importanti. Io mi rivolgo invece a tutti coloro che partecipano al dibattito pubblico. Vi invito ecco a procedere con grande attenzione e anche senso di responsabilità. Noi abbiamo come obiettivo primario, e penso che tutti possiamo condividerlo, abbiamo l'obiettivo prioritario di tutelare la salute dei cittadini, perché rispetto a tanti altri interessi costituzionali, anche di rango costituzionale, che sono in gioco, questo è sicuramente l'obiettivo prioritario. Però teniamo conto anche che ci sono altri interessi anche in gioco, per esempio quando noi disponiamo misure restrittive che incidono sulla vita delle persone, dobbiamo essere consapevoli che ci sono libertà civili, diritti sociali che vengono incisi, dobbiamo tener conto che c'è la libertà d'impresa che subisce restrizioni e anche essa è un valore costituzionale, dobbiamo tener conto di tutti gli interessi. Quindi dobbiamo sempre procedere con attenzione, perché siccome adesso inizio a vedere sondaggi e la maggioranza degli italiani vogliono misure più restrittive e meno restrittive, stiamo attenti, non affidiamoci a delle stanze e reazioni emotive. Noi dobbiamo sempre seguire un percorso e il percorso che stiamo sin qui seguendo a livello di governo nazionale col coordinamento dei governi territoriali. Abbiamo un comitato tecnico-scientifico che ci deve guidare. Delle volte potrebbe anche dirci e dobbiamo stare attenti anche a valutarle poi politicamente che alcune misure non offrono nessuna garanzia di affidabilità per quanto riguarda una efficace risposta. E poi ovviamente dobbiamo tener conto che quando andiamo a perseguire l'obiettivo assolutamente ribadisco prioritario della tutela della salute ci sono anche interessi in gioco e in qualche modo altri interessi di pari rango costituzionale che vanno contemperati. Ecco non vorrei che questo dibattito pubblico che si levasse e iniziasse a chiedere in modo parossistico misure restrittive e misure restrittive e un domani il Paese si dovesse svegliare e accorgersi che si è concentrato su un obiettivo che ripeto non voglio essere frainteso assolutamente prioritario ma a quel punto lì tutti gli altri interessi in gioco non rimarrebbero più in piedi sarebbero stati completamente conculcati completamente esiliati. Giuliano Rosciarelli di Alanius. Due veloci veloci. L'altro ieri e ieri sono stati sia al CONI che in FIGC per prendere dove si devono prendere decisioni relative allo sport. In entrambi i casi hanno rimandato la palla al governo cioè tutti dicono ci atterremo alle norme aspettiamo le posizioni del governo. Volevo capire se di questo se n'era parlato e che cosa avete deciso. Per quanto riguarda invece il ministro Gualtieri sulla sospensione dei contributi, dei leasing, dei mutui ci sarà poi e l'esperienza del terremoto delle zone franche del terremoto un po' ce l'ha insegnato verranno poi richiesti anche gli arretrati compresi gli interessi perché altrimenti ci sarebbe comunque una situazione paratostale per cui non ho lavorato non ho guadagnato ma mi viene chiesto l'arretrato di quel mese lì. Volevo capire su questo come vi sareste muovere. L'ultima che richiama un po' alla polemica che parlava lei però la polemica più politica ci sono stati incontri con le opposizioni che come al solito si chiudono poi con dichiarazioni di nulla di fatto. Oggi Renzi fa polemica dicendoci siamo fatti male da soli. Volevo capire se eravate soddisfatti veramente di questo clima e se c'era reale collaborazione. Rispondo io e poi lascio la parola al ministro Gualtieri. Per quanto riguarda la prima domanda noi nell'ultimo DPCM che ho firmato c'è una norma che riguarda anche i nostri campionati anche di calcio e di tutte le manifestazioni agonistiche. Quindi noi in questo momento abbiamo disposto l'interruzione di queste manifestazioni. Abbiamo consentito solo al più alto livello di poter consentire agli atleti di continuare gli allenamenti in sostanza. Adesso lei mi sta dicendo di ulteriori richieste da parte della FIGC delle Lega. Il ministro Spadaforo non ne abbiamo ancora parlato. Le veicolerà e valuteremo cosa e se dobbiamo fare. Per quanto riguarda invece l'ultima sua domanda che riguarda quindi il rapporto con le opposizioni ieri sono stato molto lieto, contento di poter accogliere gli esponenti delle forze di opposizioni. Ho incontrato i leader delle varie forze politiche insieme ai capigruppo. C'è stato un confronto molto sereno. C'è un clima, io ho percepito, di collaborazione. Poi ovviamente ognuno dichiara all'esterno quello che ritiene, lo intende come lo ritiene. Da parte del Governo c'è stata la volontà di condividere il percorso che stanno facendo, ripeto, nel rispetto dei ruoli ovviamente. Noi ci dobbiamo assumere, noi, la responsabilità politica delle decisioni che assumiamo. Però abbiamo anche detto che creeremo dei tavoli in cui poi a livello operativo continueremo a lavorare. Ad esempio vorremmo informarli anche in dettaglio sulle misure che stiamo inserendo in questo prossimo decreto legge che ragionabilmente porteremo al Consiglio dei Ministri che si svolgerà venerdì contenente le misure economiche di più immediato impatto. Ministro. Sì, poi mi scuso perché devo andare appunto all'audizione. La risposta è semplice, lo vedrete nel decreto. Adesso non entriamo nel merito di un provvedimento che stiamo preparando. Oggi noi abbiamo integrato la relazione definendo le risorse. Stiamo lavorando al decreto. Quando il decreto sarà pronto lo illustreremo nel dettaglio. Mario De Pizzo, Tg1. Presidente, lei ha delineato una risposta europea. L'ufficio parlamentare di bilancio indica gli euro bond come uno strumento per rilanciare la ripresa e rispondere a questa emergenza che sia sanitaria sia economica. Può essere una strada e poi a questo punto l'idea del supercommissario tramonta? Per quanto riguarda gli strumenti europei, ieri nel corso del Consiglio europeo che abbiamo avuto in videoconferenza è emerso anche nelle conclusioni finali una formula che io peraltro avevo anticipato nel mio intervento che è stato uno degli interventi iniziali. Dobbiamo fare tutto quello che è necessario con tutti gli strumenti a disposizione. Quindi ovviamente ieri non era la sede per affrontare in dettaglio al punto di vista tecnico a quali strumenti ricorreremo e quindi non mi faccia dire euro bond sì euro bond no, ma c'è la disponibilità a valutare, a dar fondo a tutte le risorse necessarie e a tutti gli strumenti necessari. Per quanto riguarda la nomina di un commissario vi ho già anticipato, l'ho detto anche ieri alle forze di opposizione, sono stato molto chiaro. Noi dobbiamo assolutamente, c'è la responsabilità del governo e mia personale per potenziare la macchina organizzativa che in questo momento sta coordinando tutti gli sforzi per offrire una efficace reazione di contrasto al contagio. Sicuramente lo spazio in questo momento dove bisogna agire in modo efficace, in modo coordinato ed efficiente è quello delle acquisizioni e della distribuzione delle forniture per quanto riguarda apparecchiature di terapia intensiva, subintensiva, dispositivi di protezione individuale. Su quel fronte sicuramente ho detto all'opposizione e mia intenzione è nominare una persona che possa coordinare meglio questo e possa lavorare al potenziamento delle filiere produttive italiane, perché in questo momento il mercato internazionale ovviamente è rastrellato dalle esigenze che sono ormai diffuse. Quindi bisogna entrare nell'ottica come in periodi della nostra storia in cui bisognava potenziare delle linee produttive e bisogna farlo in casa. Ecco, qui sicuramente serve una figura. Ho dichiarato la piena disponibilità a individuare una figura e lo faremo prestissimo. Tenete conto che per il resto, e bisogna spiegarla ancora una volta a tutti, noi stiamo parlando comunque di sanità. È un'emergenza diversa rispetto all'emergenza del passato, quando si ragiona di modelli del passato, dove c'era l'esigenza di un G7, l'esigenza di una ricostruzione post terremoto. Qui c'è un'emergenza sanitaria dove la competenza delle regioni. Non credo che in questa fase, in questo momento, ci sia la minima efficacia nell'avocare i poteri, le competenze che spettano alle regioni. Sarebbe, lo dico molto chiaramente, per quanto siamo in emergenza, un errore. Perché avocare a livello centrale questi poteri, sottrarre competenze alle regioni, quando invece è tutto in mano alle regioni, la sanità in mano alle regioni, dal punto di vista del patrimonio informativo completo, al punto di vista delle conoscenze, del know-how, eccetera, e delle linee anche di comando, dei processi decisionali, sarebbe disfunzionale. Non lo si può fare. È emergenza in corso. Ecco perché dobbiamo lavorare con questo modello che sta funzionando. Coordinamento di tutte le sanità regionali con il Ministro della Salute, che sta lavorando, il Ministro Speranza, egregiamente, protezione civile per il supporto operativo e quindi potenziare le funzioni suppletive, sussidiarie dello Stato per potenziare la risposta. Grazie a tutti. Grazie.